Social, amici, spettatori Allora questa macchina a qualcuno ricorderà qualcosa, altri no? Ma sicuramente questa faccia La vi ricorderà un sacco di cose La ragazza più amata dagli italiani Meraviglia O perlomeno dei miei followers Noi siamo qui perché ci sono un sacco di cose da dire La prima è che tra due giorni andiamo in scena Puntalizziamo un fatto tecnico Siccome io sono uno e solo E devo ballare, recitare, fare i video Montarli Non ne farò fare tutto quanto entro le 24 ore Quindi il video che state guardando in questo momento È o del giorno prima Voi lo guardate il giorno dopo Esatto, voi lo guardate il giorno dopo Quando diciamo domani in realtà è oggi E quando diciamo ieri In realtà era l'altro ieri Oggi è il 14, domenica Martedì 16 luglio Sulla spiaggia Ci sarà un evento imperdibile Però questo lo spieghiamo dopo la sigla Sigla? Fanno partire il video prima Alle spalle delle Bognotti Le Alpi Siamo ai Bognotti Cosa abbiamo ordinato da mangiare Bognotti? Un colpo Un tris di sartare E una pizza speciale Un prodotto di farm Che cos'è lo spettacolo di martedì? C'è di tutto Di tutto ma è simpiale Quindi informazione Danza e teatro Basta con i cellulari A meno che una sera Quando la Bognotti mi ha scritturato Forse si era scordata Che io uso il telefono Per tutto lo spettacolo Un momento è arrivata la pizza Non ti dice nulla Non residenza Riva del Garda? Sì ma non ho guardato Tu non sei una follower Come puoi essere tua amica Se non sai neanche Che cos'è la non residenza Brava No lo so Shame of you Va bene Allora Niente basta Se non hai niente da dire Di intelligente Io chiudo Non